Norme antisismiche C'è un altro problema, disse Valeri, il braccio destro del costruttore. È il perito del tribunale Braganza, è onestissimo. Una volta eseguita la sua perizia, non cambierà una parola per tutto l'oro del mondo. Questo è il motivo per cui avresti bisogno di lui. Se tu devi rimanere con le mani pulite, Braganza è l'unico tecnico in grado di far ricadere la colpa del crollo nel terremoto sull'ingegnere e sull'architetto. Vuoi che gli proponga dei soldi? Perché me lo chiedi? Sai che non ne posso fare a meno, disse il costruttore. Valeri si diresse verso la porta ed estrasse un mazzo di chiavi. Servivano per entrare ed uscire nel palazzo di proprietà del costruttore. Cerca di assumere Braganza per due mesi soltanto, per fargli fare la perizia favorevole a me, disse il costruttore con aria torva. E uscì dall'ufficio prima di Valeri. Chiamò l'ascensore. Molto intelligente e di un'intelligenza astrale, istintiva, il costruttore si perceviva come uno scalatore che cerca di scalare la montagna delle accuse per cui rischiava il carcere. Cercava di aggrapparsi alla sperata disonestà del perito del tribunale Braganza, ma capiva, anche se non comprendeva, che Braganza era molto più evoluto di lui. «Perché questo Braganza mi sta tanto sui coglioni?» chiese a Valeri mentre l'ascensore arrivava al piano terreno. «Perché Braganza era figlio di un costruttore come te, ma a differenza di te ha scelto di non fare il costruttore disonesto», rispose rapido, Valeri. «Vedi», aggiunse Valeri, «la tua è un'intelligenza materica, istintuale. Che cosa vuoi dire?» lo interruppe il costruttore. «Che la tua intelligenza appartiene molto alla materia in cui agisci continuamente per guadagnare materia, cioè denaro». «E secondo te che cosa dovrei fare?» chiese il costruttore. «Nulla. Devi continuare a fare il costruttore disonesto che non rispetta le norme antisismiche per guadagnare di più. Perché solo continuando ad essere disonesto in una prossima vita, non subito, potrai avere disgusto della disonestà».